Sono stati identificati e arrestati i due presunti responsabili della rissa con accoltellamento avvenuta venerdì sera scorso ad Andria in pieno centro storico. Si tratta di due cittadini di nazionalità rumena, gli agenti della squadra mobile della questura BAT intervenuti quella sera nei pressi di piazza Porta la Barra hanno subito notato la presenza di diverse persone ferite con armi da taglio o oggetti contundenti. Uno di loro in particolare era stato raggiunto da un fendente alla gola fortunatamente non in modo grave mentre altre due persone erano state raggiunte da un oggetto contundente una alla spalla e l'altra alla testa quest'ultima con conseguenze più gravi a tal punto da rendere necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria. Se l'è cavata con una prognosi di 30 giorni la rissa sarebbe partita da uno degli arrestati che avrebbe colpito un connazionale con una pala da lavoro trovata successivamente dagli agenti ancora sporca di sangue e sequestrata. La reazione dei contendenti della rissa è sfociata poi nell'accoltellamento all'esito delle indagini. In due sono finiti in manette e attualmente si trovano in carcere dovranno rispondere di rissa aggravata e tentato omicidio. Una terza persona coinvolta nella mischia è stata deferita in stato di libertà per rissa aggravata. Una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.